4 tipi di persone quando rientrano a scuola. 1. La picme. Ragazzi qualcuno mi può prestare una maglia che tengo freddo. Ma se siamo ai 35 gradi? Gianmarcolino birichino basta mi fai arrossire bacca. 2. I boys. Guardate un ragazzo nudo a pagina 618.282. HHH mi dissociò. Guardate raga che bullizzo una ragazza. HHH. Quando me ne vado da sta scuola di mer... 3. La estetic. Che bello questo quaderno e sicuramente scriverò molto bene x la scuola. Ehi ti piace la mia. Maglia. Non mi dispiace non è estetic. Noemi non mi piace il tuo quaderno perché è verde. Non me ne frega un cazzo. 4. Quella che vuole essere una emo baca? Signori nella. Butta immediatamente quella sigaretta e vietato fumare in classe. Vada a fan c***a tutta prof di racchia spazzatura che me ne frega.